Ciao a tutti ragazzi come andiamo? Bentornati qui sul canale Times Gadget Oggi in questa recensione voglio farvi vedere alcuni nuovi accessori Anker che ve l'ho fatti già vedere in maniera veloce anticipata sul canale di Instagram in qualche foto, in qualche video, in qualche reel se nel caso come al solito ragazzi non mi seguite sul canale di Instagram mi raccomando seguitemi anche su quel canale per rimanere sempre aggiornati su tutti i prodotti che mi arrivano man mano io ve li porto in anteprima prima di portarli qui sul canale YouTube vi lascio il link comunque qui sotto in descrizione comunque si tratta di accessori che hanno diverse fasce di prezzo ma sono davvero molto molto utili nell'utilizzo di tutti i giorni sono tutti accessori, questo qui ve lo posso già anticipare compatibili con il MagSafe di Apple ma oggi non ve li farò vedere solamente con il nostro iPhone 12 Pro Max ma bensì anche con il nostro S22 Ultra perché volevo anche anticiparvi, farvi vedere al volo un accessorio che poi ve lo mostrerò più nel dettaglio in una recensione dedicata agli accessori per l'S22 Ultra con il quale però possiamo utilizzare tutti questi accessori MagSafe ci teneremo a farvelo vedere con l'S22 Ultra perché comunque se nel caso alcuno di voi già lo utilizza o comunque ha già quest'anello adattatore potrebbero essere accessori interessanti anche da utilizzare con altri smartphone che non sono iPhone partiamo subito però adesso con il primo prodotto di questa serie che è quello più piccolo, quello anche meno impegnativo tra virgolette e abbiamo il Magnetic Phone Grip MagGo e sarebbe l'Anker 610 non vi dico tutti questi nomi anche con gli altri prodotti perché sono sicuro già che uno non se li ricorderà quasi mai comunque all'interno della confezione molto minimale, sempre ben fatta quella di Anker abbiamo tutti i fogliettini per la guida il supporto al prodotto se nel caso avete bisogno di supporto per qualsiasi altro problema potete contattare l'Anker e poi abbiamo il solito fogliettino felice o non felice anche per quanto riguarda la soddisfazione degli utenti per i prodotti dell'azienda questa è una cosa che vi chiederà sempre Anker in ogni singolo prodotto comunque andiamo a vedere un po' nello specifico un po' più nel dettaglio questo anello come funziona e soprattutto come è fatto molto bello il design Anker anche perché ormai da anni ormai questo brand, questa azienda è un po' un punto di riferimento per questi accessori e anche una garanzia non solo per la qualità non solo per l'assistenza ma anche per il design per il loro funzionamento devo dire molto bello, molto minimale, molto sottile estremamente anche leggero abbiamo il brand anche qui da questa parte tutta questa parte grigia che vedete è tutta gommata molto bella perché è un TPU molto bello al tatto ha un ottimo touch and feel non è né troppo gommato ma nemmeno troppo scivoloso ed è molto piacevole poi abbiamo questo anellino che si va ad alzare e adesso vi andrò a far vedere l'utilizzo ma sicuramente già l'avete capito all'interno invece nella parte inferiore non abbiamo nient'altro che questa parte qui anche questa è leggermente gommata dove abbiamo la calamita perché chiaramente essendo compatibile con il MagSafe la possiamo attaccare tranquillamente dietro al nostro iPhone o se volete anche dietro al nostro S22 Ultra con questi tipi di anelli questo tipo di anello è della ESR ve l'ho fatto vedere anche un'altra storia della Rinke ma poi ve la farò vedere nel dettaglio un'altra recensione dedicata agli accessori per l'S22 però comunque se già li avete o se avete un Android dovete sapere che li potete utilizzare tranquillamente anche nel vostro smartphone Android e la calamita ragazzi vi assicuro che è molto molto forte io l'ho testata in questi giorni anche con questo anello la potete utilizzare senza tanti problemi tranquillamente ma ritorniamo al nostro iPhone ve la faccio vedere qui sopra la cosa buona di questo anello è che come vi dicevo prima non solo è leggero ma anche molto sottile ok abbiamo l'effetto bilancia quando lo andiamo a utilizzare il telefono in piano in questa maniera perché chiaramente l'anello è al centro però devo dire è molto pratico allora delle volte potreste non riuscire ad alzare subito l'anello perché vi fa scivolare quindi se nel caso avete problemi lo togliete un attimo lo alzate e poi lo rimettete e lo alzate in questa maniera però la cosa che mi è piaciuta è che questo anello è molto flessibile perché può girare quindi voi chiaramente lo potete utilizzare da questa parte oppure se vi dà fastidio perché sta troppo attaccato al bordo lo girate da quest'altra lo utilizzate così lo potete utilizzare con la sinistra lo potete utilizzare anche in questa maniera ed è un supporto fantastico per chi fa foto per chi fa i video nel caso volete fare qualche foto qualche video particolare con il vostro iPhone vi assicuro che un anello messo in questa maniera un supporto qui dietro vi offre un ottimo grip ed è un ottimo supporto per migliorare la stabilitazione ma anche per sfruttare l'iPhone e per scattare delle foto in alcune angolazioni che senza questo anello non riuscireste a fare anche perché lo potete tranquillamente tenere così e poi andare a scattare la foto senza doverlo impazzirvi a tenerlo con entrambi le mani o con una mano andarlo a tenere stretto per paura che cada l'anello è anche comodo anche per questo tipo di utilizzo perché quando lo aprite è abbastanza rigido quindi non si dovrebbe allentare poi con il tempo però quando ce l'avete così è molto comodo perché vi funge anche come kickstand quindi un piccolissimo accessorio molto sottile molto leggero che poi quando non vi serve lo potete pure staccare e portare in tasca o portare nello zaino ma vi devo dire ragazzi è molto utile perché ha una marea di utilizzi questo accessorio purtroppo poi non vi permette però di far ricaricare chiaramente come tanti altri accessori il vostro iphone in wireless quindi lo dovete togliere quando lo mettete in ricarica però devo dire ragazzi è davvero molto molto bello lo dovete trovare se non sbaglio anche in altre diverse colorazioni io ve lo faccio vedere anche e visto che ci sono con la cover con la team fit della Spigen per l'S22 guardate qui quanto si sposa bene e anche con questo seppur cambiano le dimensioni ragazzi lo potrei sempre utilizzare anche così come cavalletto lo potrei utilizzare tranquillamente anche in questa maniera e qui diventa molto comodo per fare delle foto soprattutto con questo comparto fotografico e devo dire quindi ragazzi è davvero un ottimo accessorio il prezzo non mi ricordo i prezzi di tutti questi accessori ragazzi quindi vi lascio il link qui sotto chiaramente come al solito ad Amazon se lo volete acquistare e anche nelle diverse colorazioni mi sembra però il prezzo sia giri intorno a una quindicina ventina di euro o anche forse leggermente di meno di 15 euro ecco perché adesso non mi ricordo però se siete interessati vi lascio il link andate a dare uno sguardo come secondo prodotto invece di questo lotto ragazzi l'anellino lo mettiamo qui sopra andiamo a vedere invece una powerbank powerbank molto molto bella io lo stavo aspettando da tanto tempo questo tipo di prodotto è la Anker non vedevo l'ora che mi arrivava perché è una powerbank a cui stavo dietro da diverso tempo da quando è uscita soprattutto per il suo design e per la sua utilità come avete capito già dall'immagine qui del foglietto illustrativo questa qui è una mini guida chiaramente anche qui poi avete tutta una serie di immagini degli altri prodotti Anker dell'immagine proprio di questo prodotto e anche per quanto riguarda i contatti per il supporto e per l'assistenza come avete capito stiamo parlando dell'Anker 622 magnetic battery una powerbank davvero molto molto bella non solo per il suo utilizzo per la sua comodità nell'utilizzo quotidiano ma anche per il suo design qui abbiamo il cavetto già nella confezione che troverete in confezione usb-c usb-c da entrambi i lati speriamo che con il prossimo iphone arriverà anche la porta usb-c sui telefoni e abbandoneranno questa porta lightning che non si può più vedere perché non si riesce ad adattare non è più ormai in un suo ecosistema ma è una porta a sé però chiusa aperta e chiusa parentesi questo qui è la nuova battery è una powerbank con MagSafe integrato molto bella forse alcuni di voi già l'avranno vista ma devo dire è davvero un bellissimo prodotto non solo per il design non solo per le sue dimensioni ma anche per un sistema che è molto pratico in pratica voi la potete aprire e questa qui adesso come vi farò vedere una volta che l'attaccate e qui dirò al telefono vi fungerà anche da kickstand non solo in verticali in questa maniera ed è molto comodo per potervi riprendere nel frattempo anche fate caricare il telefono per i video su Instagram o anche per una semplice videochiamata ma voi lo potete anche utilizzare come tanti altri supporti in questa maniera lo fate ruotare e vi potete vedere tranquillamente il vostro video il vostro film sul telefono e nel frattempo continua però anche a caricarsi anche in questa maniera perché comunque anche se ruota la parte che va a induzione per far ricaricare è questa qui centrale quindi lo potete fare ruotare sia di qua che di là la powerbank devo dire è fatta molto bene perché tutta questa parte interna rispetto al modello precedente che era la vecchia la prima Anker la prima powerbank con MagSafe dove noi non avevamo la parte interna quella che si andava ad appoggiare al telefono gommata e quindi andava parecchie volte a scivolare io per esempio con questa sull'iPhone non lo potevo tanto utilizzare perché guardate andava spesso a ruotare ve l'ho detto anche nella recensione con il confronto che ho fatto con il MagSafe e quello di Apple quella la powerbank originale invece questa abbiamo tutta la parte gommata abbiamo la porta USB-C una sola porta qui sotto qui il tastino con i led che ci vanno a indicare lo stato della batteria la batteria rimanente anche la parte qui sopra è tutta gommata fatta davvero molto bene qui sopra avete questa linguettina che vi permette di andare ad aprire lo sportolino per andarlo poi a incazzare in questa maniera ma l'unico modo è questo qui non ci sono altri tipi di altezze dove poter attaccare questo sportolino quindi avete una sola regolazione ma va benissimo e mi piace anche tantissimo in corozione bianca questa powerbank l'azienda quest'anno me l'ha mandata in grigiosuro che per carità è bellissima ma ve lo consiglio di prenderla anche bianca perché è davvero molto bella una cosa interessante di queste powerbank come ho detto anche sul modello precedente rispetto per esempio a quelle originale Apple è che queste non hanno la ricarica rapida in wireless quindi anche quando lo andiamo ad appoggiare sul nostro S22 Ultra è in automatico si va a caricare non so se si riesce a vedere ma abbiamo la ricarica normale non abbiamo la ricarica rapida comunque molto interessante e molto utile anche con un Samsung anche con questo anello questa powerbank e questa battery cover anzi battery cover questa powerbank mi viene da chiamarla battery cover che ormai è tutta integrata con la cover però devo dire è molto interessante e molto utile anche perché se cambia anche la grandezza il peso del telefono comunque lei riesce ad offrire un ottimo appoggio un ottimo kickstand sia in orizzontale ma anche in verticale quindi state vedendo che è davvero molto piacere da utilizzare molto flessibile specialmente se avete come me due telefoni e vi fornite di questo comprate un anello adattatore di questo genere la potete utilizzare tranquillamente e come vi stavo dicendo la cosa interessante di questa powerbank è che ha la porta USB qui qui sotto che se la utilizzate con il cavo ha la ricarica rapida la ricarica rapida però solamente con il Samsung con l'iPhone sinceramente ragazzi non sono riuscito a capirlo perché in pratica sul Samsung o comunque su molti Android come molti di voi sapranno appare la scritta ricarica rapida ricarica normale o ricarica ultra rapida invece sull'iPhone non c'è nessun modo per vedere se è ricarica rapida o ricarica lenta penso che ci sia la ricarica rapida con il cavo anche per l'iPhone se l'attaccate chiaramente USB-C Lightning ma questo qui non ci posso mettere la mano su fuoco non sono totalmente sicuro comunque un prodotto davvero molto interessante anche perché la batteria all'interno è da ben 5000 mAh quindi avete modo di utilizzarla più volte un paio di volte almeno con qualsiasi altro telefono alcune volte allora sì ok 5000 mAh però su alcuni telefoni non vi posso garantire che vi porta al 100% perché poi realmente andiamo sempre a coprire quell'85-90% 80% a seconda anche della capienza della batteria chiaramente se lo utilizzate con telefoni così grandi la maggior parte delle volte riuscite ad arrivare a coprire un 85-90% poi se lo utilizzate con l'iPhone 12 o con il mini è chiaro che lì ci fate una ricarica completa comunque un prodotto davvero molto interessante che vi consiglio assolutamente non solo per la sua portabilità ma soprattutto per la sua funzionalità quest'anno in particolar modo anche da poter essere utilizzato con i smartphone Android il costo di questo prodotto non è basso non è contenuto parliamo di 59 euro lo so ragazzi molti di voi saranno storciando il naso perché è abbastanza costoso ma vi posso dire vi posso garantire che se lo trovate in offerta a 49-40 euro ragazzi prendetelo a occhi chiusi perché è davvero molto comodo specialmente in questo periodo estivo se andate fuori in vacanza vi assicuro che farà la differenza e sarà un prodotto molto molto utile da utilizzare con il vostro iPhone specialmente se fate foto e video o anche per coprire una giornata e mezzo nel caso non vi siete portati dietro il vostro caricatore da muro ma soprattutto perché si tratta di un accessorio prima che mi stavo scordando che come ho detto più volte è una powerbank piccola e compatta ma con la possibilità di attaccarla qui dietro non avete la porta USB-C o la porta Lightning in questo caso occupata e non vi do nemmeno preoccupare di metterlo in tasca o di poterlo continuare a utilizzare senza andare a far danno allo stesso tempo alle porte perché delle volte con il cavo come vi ho già detto vi ho fatto questo discorso con le battery cover sono molto più comodi questi tipi di accessori rispetto alla powerbank classica che potrebbe essere di 10.000 da 20.000 mAh o anche più sottile se parliamo di 5.000 ma non magnetica o non cover perché in quel caso dovete sempre stare attenti al cavo USB-C al Lightning qui sotto se si va a piegare dovete stare attenti quando lo mettete in tasca o quando lo mettete in ozzano e invece devo dire ho apprezzo molto molto ho apprezzato tantissimo questi tipi di accessori che le potete utilizzare tranquillamente per poter poi chiaramente continuare ad utilizzare anche il vostro smartphone e comunque anche di questo vi lascio il link qui sotto in descrizione se nel caso siete interessati terzo prodotto invece di questo lotto di questi accessori Anker andiamo a vedere un'altra powerbank ma questa volta della serie 6 che è una serie più aggiornata più recente rispetto al precedente modello e questo devo dire è un altro prodotto molto bello molto interessante ma anche più performante di quella precedente come al solito anche qui trovo i foglietti per la guida il supporto e quant'altro ma andiamo a togliere tutto e andiamo a prendere il nostro accessorio anche qui andiamo a trovare il cavo già nella confezione USB-C USB-C chiaramente con questo cavo se utilizzate la powerbank direttamente con la porta USB-C lo potete far caricare in maniera rapida cosa che mi hanno scordato di dirvi ma potete utilizzare qualsiasi altro cavo USB-C ci mancherebbe quello dotato in confezione non utilizzi la ricarica rapida e comunque questa volta è la nuova powerbank questa qui è il modello vi vado a vedere il nome perché non me ne ho ricordo mai la 633 Anker non capisco perché quest'anno Anker è da un po' che dà tutti questi nomi con i numeri che delle volte ci si confonde o comunque ci si perde un po' nella miriade di numeri comunque un prodotto bello molto interessante ragazzi perché perché questa powerbank a differenza della precedente seppur le dimensioni in pianta sono le medesime ma lo spessore è leggermente più spesso questo qui di questo nuovo modello ma abbiamo qui 10.000 mAh qui 5.000 quindi siamo esattamente al doppio di batteria all'interno ed è un prodotto interessante perché oltretutto abbiamo la porta USB-A con cui quindi con la ricarica rapida e anche un sistema intelligente che va a straccare la batteria nel momento in cui il telefono si è caricato e non va a sovraccaricare o non avete problemi di sovravoltaggio che possa bruciarvi il vostro telefono perché ha una ricarica controllata abbiamo poi da questa parte la USB-C con la quale potete far caricare anche la powerbank quindi abbiamo due porte anziché una rispetto al modello della 622 quello era non mi ricordo mai comunque di quest'altro modello e come cosa differente qui abbiamo invece il flip stand quindi non abbiamo più il sistema di prima ma abbiamo un semplicissimo kick stand che devo dire fa il suo lavoro chiaramente aumenta il peso ragazzi non solo lo spessore ma aumenta anche il peso perché essendo una batteria più grande con più amperaggi è chiaro con più miliampere è chiaro che il peso aumenta però devo dire che si tiene comunque bene in mano purtroppo ha una molla ma non ha un clic di fine chiusura ma lo possiamo anzi no ok lo possiamo mettere così in verticale quindi comodo anche per i video e anche in questa maniera in questo modo delle volte allora delle volte si va a chiudere non capisco questa cosa quindi diciamo che mi sono trovato bene ma fino a un certo punto con questo prodotto anche se lo potete mettere così e lo potete girare in orizzontale diciamo che con questo tipo di kick stand il sistema è un pochino più macchinoso non potete farlo ruotare come questo in qualsiasi modo anche in landscape ma questo qui ha la necessità di essere ruotato in questa maniera per poter utilizzare il telefono in landscape però comunque anche in questo caso come in quell'altro il telefono comunque si continua a caricare quindi non avete nessun tipo di problema la cosa che mi è piaciuta un pochino di meno di questa è che le ruota più velocemente più facilmente rispetto all'altra seppur qui c'è il simbolo che ci dovrebbe essere anche qui il magnete verticale però purtroppo non mi sembra che ci sia o comunque dall'utilizzo non sembra che sia forte quanto quest'altro qui di quest'altra powerbank o anche come quella anche di lettre accessori va a ruotare un po' troppo facilmente mi sembra che ha un po' il difetto della prima powerbank della Anker e qui mi ha fatto un po' storciare il naso perché quando ce l'ho in tasca in questi giorni guardate anche quando lo prendete con poco si va a ruotare e rimane un po' scomodo da questa parte non vi ho fatto vedere che abbiamo i led di stato che indicano la batteria rimanente abbiamo il pulsantino per accenderli qui da un lato ma devo dire questa batteria veramente va molto bene perché a parte questo fastidioso gioco con la calamita ma 10.000 mAh vi assicuro non solo due ricariche complete piene di uno smartphone ma vi assicura anche una powerbank che potete anche farci una ricarica in mezzo tranquillamente una giornata in mezzo due giorni completi senza nessun tipo di problema perché comunque anche se non va a caricare al 100% entrambi le volte la batteria di un telefono perché avete un telefono con 5.000 mAh con 4.800 mAh e 5.000 qui si sono dichiarati ma come sapete sono sempre un pochino di meno su queste powerbank però comunque rispetto a quella di 5.000 qui potete con 10.000 tranquillamente farci due giorni ecco su questo modello avendo forse questa parte qui dell'anello a calamita che è un po' più esposto e anche un po' più fuori o forse potrebbe essere anche un po' più forte come sistema di calamita qui va a ruotare un pochino di meno ma questo grazie anche perché qui abbiamo l'anello che è leggermente gommato se per esempio mettete una cover in pelle quella originale Apple qui dietro o come quella in silicone è chiaro che qui il problema non persiste perché fa più attrito fa più anche più forte la calamita e quindi non tende a girarsi però se utilizzate il telefono il vostro iPhone senza cover ecco lì potreste avere quel problema che va a girare anche in questo caso qui non fornisce la ricarica rapida purtroppo mi aspettavo una ricarica rapida da una batteria così grande ma ve la fornisce con il cavo con la porta USB-C ma anche con la porta USB-A devo dire molto molto bello come powerbank devo dire che questa qui seppur ha delle dimensioni e un peso più elevati rispetto a questa mi sono trovato molto bene specialmente in viaggio vi posso dire che seppur ha un peso superiore e in tasca delle volte si può far sentire però comunque vi portate una powerbank e ci coprite non solo due telefoni ma se ne avete uno solo ci coprite tranquillamente due giorni senza portarvi il vostro caricatore da muro questo prodotto comunque lo possiamo trovare mi sembra anche in altre correlazioni ma non ne sono sicuro e ha un prezzo di 79,90€ lo so qui il prezzo si alza notevolmente rispetto all'altro modello ma capite bene che è anche una delle poche powerbank con questo tipo di sistema con il MagSafe con due porti con ricarica rapida con il kickstand quindi ci sono diversi aspetti che la rendono non vi dico unica sul mercato però molto più interessante molto più particolare rispetto a tanti altri prodotti di altri brand io comunque anche di questa vi lascio il link qui sotto poi fatemi sapere quale preferite quale scegliete che cosa ne pensate di questi due modelli come quarto e ultimo invece prodotto ecco qui arriviamo a un prodotto anche davvero bellissimo ragazzi un prodotto che non è portatile è un prodotto da casa come state vedendo già anche dall'immagine molto belle le confezioni anche della Anker devo dire devo fare un applauso anche al packaging perché è sempre molto bello molto elegante molto pulito all'interno abbiamo tutta la mano list e i fogliettini qui abbiamo anche la guida rapida il modello di questo prodotto il nome è l'Anker 623 Magnetic Wireless Charger perché chiaramente è una basetta di ricarica wireless chiaramente sempre compatibile con MagSafe ma all'interno abbiamo non solo questa volta il cavo USB-C molto lungo devo fare un applauso anche perché non tutte le aziende sembra una cosa stupida includono nella loro confezione un cavo di questo genere di questo spessore ma soprattutto di questa lunghezza cosa che io trovo molto molto comodo perché altrimenti ogni volta da comodino non mi riesce ad arrivare il cavo sotto alla presa o anche se lo volete mettere su un tavolo dello studio e poi chiaramente abbiamo la sua presa da muro con PD quindi con ricarica rapida molto molto bella anche perché questo qui è comoda anche se la volete utilizzare senza la vostra basetta da portare in viaggio non so vi serve una presa in più con il cavo USB-C lo potrete tranquillamente utilizzare all'interno poi abbiamo quella confezione qui sotto non c'è nulla e quindi la andiamo a mettere da una parte tanto a noi non interessa e andiamo a vedere questa basetta molto bella non solo per la sua funzionalità ma anche per il suo design guardate qui quanto è pulito questo design è un cilindro con la porta USB-C qui sotto qui sotto abbiamo tutta la base poi gommata questa parte qui invece semi trasparente che vedete si va a illuminare nel momento in cui noi andiamo ad attaccare il cavo qui dietro e andiamo poi a posizionare un telefono ma adesso ve la faccio vedere direttamente con la powerbank dato che non ho adesso a portare di mano una basetta guardate qui adesso la va a dare attaccare e staccare non appena andate ad attaccare si va a illuminare molto bello come effetto e lo stesso effetto ce l'avete nel momento in cui andate a posizionare il vostro telefono si va completamente a illuminare ma la cosa interessante di questa basetta che ho apprezzato tantissimo è che ha questo sistema guardate si va ad alzare quindi voi non solo potete far caricare il telefono in questa maniera e devo dire è anche molto più comodo farlo caricare così perché vi permette di per esempio quando ce l'avete sul comodino di avere a portarla di mano anche a studio il vostro telefono non ce l'avete così di piatto ma ce l'avete davanti ed è anche utile per vedere un film se per esempio volete portarlo a studio lo potete anche utilizzare in questo modo o anche per una videochiamata tranquillamente così e si continua a caricare ma la cosa bella è che qui dietro abbiamo anche un altro un'altra basetta di ricarica lo so non è molto grande quindi non potete far caricare un telefono io sinceramente non ce l'ho mai provato ah no ragazzi si si può far caricare anche un telefono sinceramente non ce l'avevo mai provato a mettere il telefono qui dietro perché in questi giorni l'ho utilizzata per caricare le cuffiette sia le airpods ma anche le galaxy buds potete far caricare anche l'orologio della samsung se nel caso ce l'avete se nel caso vi interessa un sistema del genere perché chiaramente anche questo modello può funzionare tranquillamente con il samsung o comunque con l'anello e se utilizzate la sua presa da muro avete anche la ricarica rapida sui samsung quindi ottima come cosa e in pratica in questi giorni in questo periodo l'ho utilizzato anche per far caricare come vi dicevo l'orologio perché basta che avete dovete togliere il cinturino perché altrimenti va a fare un po' l'archetto e si va ad alzare ma se voi lo poggiate dato che i nuovi smartphone samsung ormai anche i nuovi ma anche quelli precedenti hanno il sistema di ricarica tra virgolette wireless classico quindi non proprietario come l'apple watch lo potete far caricare senza tanti problemi poi se avete un apple watch chiaramente lo potete far caricare a sé e qui potete porciargi le vostre cuffiette se nel caso poi non avete nulla da caricarci lo chiudete e lo potete utilizzare anche così molto bello come design devo dire ragazzi è molto utile ho apprezzato la ricarica rapida questo tipo di di ricarica di basette ricarica wireless c'è anche in colorazione grigia se non fate errato lo stesso grigio della powerbank e anche del modello successivo quindi molto interessante anche come colorazione ma devo dire è fatto molto molto bene a livello di funzionalità l'unica cosa dovete stare attenti non so se ci avete fatto caso prima quando ce l'avete su un panno su un tessuto un tappetino di questo genere quando lo aprite tanto se il telefono anche con l'iPhone lo aprite del tutto tende a sbilanciarsi un po' in avanti quindi vi consiglio sempre di avere una certa inclinazione in questa maniera non aprirlo tutto perché delle volte si potrebbe sbilanciare se non ce l'avete su un piano totalmente piatto totalmente rigido il costo di questa basetta allora questa qui non mi ricordo bene ragazzi si dovrebbe aggirare intorno alle 80-90 euro 80 euro lo so il prezzo anche qui non è dei più contenuti però ragazzi vi posso assicurare che anche in questo caso ne vale assolutamente la pena perché è un prodotto davvero interessante molto bello esteticamente fa la sua bellissima figura se avete se la volete poggiare sul vostro studio se avete un arredamento moderno anche sul vostro tavolo da pranzo o anche sulla credenza all'ingresso su una mensola sul vostro comodino devo dire è molto bello esteticamente e anche devo dire ragazzi perché l'ho testato l'ho portato con me in viaggio è anche molto comodo seppur ha un certo peso perfino da portare in viaggio anche se lo volete mettere nella borsa nel trolley comunque non ha un design grande invadente che può occupare tanto spazio e oltretutto poi dovete contare che con una basetta così piccola e così compatta potete sempre far caricare ben due prodotti io comunque anche di questo vi lascio il link qui sotto in descrizione comunque ragazzi siamo arrivati adesso alla fine di questo video questi qui erano nuovi prodotti Anker che non vedevo l'ora di farvi vedere perché li stavo utilizzando come avete capito da un po' di tempo fatemi sapere che cosa ne pensate anche voi di questi prodotti e ci vediamo alla prossima recensione dove vi farò vedere tutta una serie di nuovi accessori anche per l'S22 Ultra compatibili anche quelli con il MagSafe quindi ci sono davvero parecchie cose da andare a vedere e da andare a testare se vi è piaciuto questo video ragazzi come al solito mettete un bel like mi fa sempre molto piacere mi raccomando iscrivetevi e continuate a iscrivervi qui sul canale di Times Gadget qui sul canale YouTube detto questo noi ci vediamo alla prossima video recensione da Times Gadget per Giorgio buona giornata a tutti e grazie ancora per Giorgio per Giorgio per Giorgio per Giorgio per Giorgio grazie per Giorgio